... per la sua fiducia, vedete il vantaggio dell'attore 1.73, ha scelto molto bene il ginaggio? No, lei ha rischietto tutto a passare la realità e il viscito addosso, però qui si andava a poter... ... però l'ha lasciato in mezzo al secondo, se arriva a tutto il secondo, come va adatto? ... se può ancora fare con me, non può, non c'è più la lunga che mi è più sicuro adesso, è un po'. ... è ancora a voi, è stata fatta... ... se è tornata con lei, non lo vedete tutti, non sono molto abituale, ... e quindi comunque non sarà un diverso, e Marco dice che inizia l'avanti, ... sono adattare molto bene, e quindi poi c'è qualcuno può spiegare alle nostre che non si sceglie, ... perché per fare punti si dovrebbe arrivare a traguardo almeno lì tanto, ma io sono convinto che bisogna cercare risultati, ... non sono ancora le punti, ma... ... soprattutto bisogna... ... di questo... ... non c'è bisogno di... ... non ho bisogno di... ... non ho bisogno di... ... non ho bisogno di... ... stavo cedendo con festa, però stava cedendo con festa... ... non ho bisogno di... ... non ho bisogno di... ... una come lei, sicuramente, lo devo cercare sempre, perché comunque... ... non è che ha la mia radia, che dovrebbe costruire... ... e adesso ci vuole il corpaccio. ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.